Faccia scordare il passato. Sapevamo che non era una buona idea. Andiamo, Victor. No. Io rimango. B ha ragione. Per me questo è un modo per rendere omaggio a loro. A Lucas e Elena. Per colpa di Elena sei su quella sedia e la difendi. Non parlare così di mia sorella. Era lei a guidare l'auto. È colpa sua se hanno avuto quell'incidente. È colpa sua se mio figlio è morto. Papà, Mariana, che succede? Che succede? Andiamo a cercare un vento. Sto bene, sto bene. Un capogiro. No, andate. Non stai bene. È la cosa migliore per tutti. Tranquilla, Paola. Ma voi non avete un cuore. Vieni, tesoro, andiamo. Io mi cedo la stessa cosa, mamma. Ciao.